Il piano del mezzo non mi pare che ci sia, sul piano dei contenuti ci sono state, diciamo, i provvedimenti, con l'alzerno di natura, mi pare che i compagni ha detto che no, e poi sul bilancio si può trovare altre cose. Penso che, essendo chiari a tutti che sono consigliati quali sono le priorità, la questione dell'assetto fidanziario, è un tema che sta alla base di tutela, evidentemente senza le sue necessarie, non è che puoi tutelare i diritti, le possibilità e il benessere della vita, questo è evidentemente la prima preoccupazione, questo penso assolutamente che sia un dato trasversale e mi pare di aver colto che è un sentimento che attraversa in tutto il nemiciclo, insomma, e la trasversale. Rispetto ai temi del lavoro, io trovo molto appropriato l'incipit del Presidente Rossi, che ha empatizzato e ha posto al centro il tema giovanile, perché in realtà della retorica si muove a un piano in maniera efficace, il tema non solo dell'occupazione giovanile, ma dell'emancipazione giovanile, cioè della monia dei nostri giovani, c'è la possibilità di costruirsi un sicuro che vuol dire, vuol dire, vuol dire per la casa, vuol dire la politica per la famiglia, vuol dire la politica, vuol dire per la natalità, vuol dire servizi e sostegno delle domani coppie, delle famiglie, vuol dire proprio quel supporto per la partenza di nuove esperienze, di vita autonome, che altrimenti, diciamo, rischio di ritornare su un welfare di tipo familiare che ha un velo che è assolutamente per me sostenibile.